Analizziamo la vetrina di Ralph Lauren. In questa vetrina vengono utilizzati due manichini sartoriali per dare l'idea di artigianalità dei capi, aumentando così il valore percepito del brand. Lo schema compositivo utilizzato è composto da un elemento scenografico, cioè il proiettore da una parte e i due manichini dall'altra. I look mostrati sui manichini con molta ricercatezza identificano appieno il brand. Solo così il cliente target si può riconoscere in quello stile per essere poi interessato all'acquisto. I look poi sono fra loro differenti, ma identificativi del brand per mostrare la varietà dei capi. Quando la vetrina viene utilizzata in questo modo, il cliente target si identifica a pieno col brand e viene portato all'interno del negozio per poi essere guidato all'acquisto. Segui le prossime analisi vetrine per conoscere regole e strategie che stanno dietro all'allestimento. Ciao!